un saluto a tutti a snowkills e ben ritrovati in un nuovo video questa volta ragazzi vi porto un replay di questa fantasmagorica partita che ho appena finito della durata di 28 minuti quasi mezz'ora contro un terran di gold 1 io sono gold 3 sto per andare al 2 però insomma è stata una partita veramente avvincente molto molto come si vede dal grafico combattuta e quindi senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo a guardare il replay che è stata una partita veramente ragazzi terrificante cambiato praticamente truppe tre quattro volte allora possiamo tranquillamente velocizzare la parte iniziale e mettere come visuale la mia quindi andiamo avanti la parte iniziale diciamo quella proprio standard dove vado a fare le cose diciamo basilari poi mettiamo un attimo per due allora vado a fare la pool quasi subito seconda base ok c'è l'SCV qui mi ricordo che vado a creare praticamente subito due zargling per far fuori questo SCV e qui possiamo rivelocizzare un pochettino pronta reggina per qualche altro zargling qui mi attaccano il ok qui vado a fare il primo raid diciamo con gli zargling faccio fuori un paio di scv le casette niente ha fatto decollare la base centrale quindi non si può fare nulla vado metto in cantiere la terza base intanto continuo a disturbare quegli zargling ovviamente ha i lancia fiamme xenon si chiamano mi pare mi ricordo perché taran li uso veramente pochissimo e continuo ad ammucchiare zergling intanto la terza base è già in cantiere noto col che ha fatto la terza base quindi lo vado a disturbare subito ma perdo un saccaccio di zargling due ce li lascio e gli ho quasi fatto fesecca la base ma non ci sono riuscito torno indietro continuo a tormentarlo un po' perché volevo far fuori quello ma ormai è troppo tardi allora mi rollo scv ci riesco perdo tutto vabbè ci rifacciamo allora andiamo a vedere un attimino le unità abbiamo mutalis che in produzione di risorse siamo messi molto meglio di lui diciamo stiamo andando in surplus lui ha 46 cv io 38 droni quindi più o meno siamo pari con 11 mutalis che mi appresso a fare un raid mette questo soldatino qui per vedere quando piazzo la base ma non l'ho piazzata lì la terza base come ha fatto lui torno indietro perché avevo visto un puntino non lo so non so perché sono tornato indietro con le mutalis che intanto il sorvegliante è sempre lì non lo disturba nessuno qui possiamo andare un pochino più veloce ok le mutalis che mi vedono forse mi vedono con gli alien esatto alien qui faccio diciamo un raid che non va malissimo riporto diciamo a pari i nostri i nostri le nostre produzioni scv vado leggero vantaggio con i miei droni e qui lui prova a entrarmi in base ma veramente è stata fallimentare questa cosa torniamo visuale giocatore intanto continuo a produrre le regine mando avanti la il biostrato ovviamente e qui diciamo che lui comunque 54 scv continua sta iniziando a produrre i tor ma però a parte ma però non si dice però a parte questi quattro tor quattro elbet e i due carri da assedio non ha praticamente nulla solo scv qui avrei potuto approfittarne un pochettino di più però ha piazzato come andremo a vedere un sacco di difesanti aeree qui allora me la prendo un po' con con i rifornimenti gli faccio fuori un paio di elbet si iniziano a vedere i tor miro la base me la svigno ovviamente me la svigno con due cannonate fanno fuori intanto qui ah no ok potenziamenti non solo a lettera per vederli intanto comunque sto potenziando tutto nel giro di di breve tempo vado porto tutto quanto al massimo siamo a metà del match ho fatto una base più lontana in quanto lui comunque teneva d'occhio questa e diciamo le ho fatto le basi un po' dove non se lo aspettava mando un sacco di droni siamo 64 pari 70 leggero vantaggio in droni eh lui ha una decina di tor per lo più eh 14 il bit al bet insomma come si chiama ok qui a questo punto io appunto tutto sulla velocità tutto sulla velocità con i baneling e gli zergling anzi inizio a fare le idralische perché avendo visto che lui fa i tor io gli ho fatto anche qualche idralische per i carri d'assedio allora torniamo alla visuale giocatore qui gli faccio un mezzo giro gli faccio un mezzo giro no gli vado frontale anche perché le truppe non sono molte però mi accorgo di starci andare un pochettino sotto batto in ritirata e eh ovviamente richiamo le mutalische allora vado da dietro qui e gli elimino con molta facilità tutti i tor qui l'ho rimasto con poco faccio fuori anche quelli che stavano arrivando in supporto abbatto la parete per fare un po' prima intanto usciamo un po' gli alveari con le regine aggiusto un pochettino di cose qui e qui parte un raid sulla sua base più lontana distruggo tutto non prova neanche a farla decollare e qui mi accorgo che è un ingaggio un po' di cacca me la svigno me la svigno porto in salvo le truppe sposto ovviamente quei sorveglianti che stanno lì in prima fila a farsi ammazzare facilmente altre mutalische che arrivano e qui infatti in questo fight le mutalische mi aiutano un sacco perché lui ovviamente con gli ilbit mi fa fuori in un nanosecondo tutti quanti i gli zergling ovviamente e quindi si deve di nuovo cambiare strategia io intanto vado a fare un raid le sue basi ma niente questi maledetti tor sono potentissimi a sparare nel mucchio e quindi si ricomincia di nuovo da capo 64 scv lui 77 dronio quando siamo al diciannovesimo minuto qui c'è questa truppa abbandonata da sola io qui continuo con baneling e zergling mando lì sotto come potete vedere dal radarino le mutalische provo a fare un mini raid perché dovrebbe aver creato lì però ci trovo ovviamente difese aeree e quindi arrivano anche i tor sono costretto a svignarmela e qui a questo punto le basi sono tante sono 20 minuti di gioco e qui qui le idralische qui le idralische sono fondamentali per dare un po' di potenza agli attacchi allora vediamo un po' vado sulla sinistra scopro la sua base che stava costruendo lì gli era falcio a manetta e qui distruggo quasi tutto mi fa fuori tantissimi zergling con quegli alien però questo è un buon ride mi porto a casa un bel po' di truppe di strutture abbattute e qui c'è stato un attimo un intoppo perché si sono bloccati gli zergling intorno a quei cosi non mi andavano a colpire gli scv che continuavano a riparare la base centrale col cannone e quindi ho perso veramente tutto quanto l'esercito però come potete vedere sono un sacco un sacco di minerali veramente un sacco perché con tutte le basi e 77 76 droni ho ammucchiato un sacco quindi ovviamente push tutti quanti gli alveari con con le regine per per truppare più rapidamente qui a questo punto penso di creare due basi al centro da prendere la mia zona centrale penso non ricordo se non ricordo male si qui creo le due basi perché ovviamente i minerali nei primi alveari tendono a a finire e qui continuo ad attaccare le basi secondarie e questa me la porto a casa veramente facilmente possiamo allontanare anche un pochettino qui la base ah no nella visuale del giocatore non si può ok vado anche in quella più a nord diciamo delle sue basi distruggo anche questa metto al lavoro i droni che erano lì e però qui un attimo mi si smaschera il gioco credo se non ricordo male ah no no torna indietro non mi vede la base e qui faccio un po' diciamo una mezza nabbata perché volevo entrargli in base però quando metto l'auto attack si fionda sulle difese che lui aveva mandato indietro quando mi ha visto e quindi praticamente perdo di nuovo tutto l'esercito anche perché ho lasciato anche delle difese dentro mezzo casino ho perso di nuovo tutto l'esercito ma è stata una buona occasione per rifarlo perché lui avendo fatto gli elbit che cosa è successo che io non ero proprio più buono con con quelli e mi ricordo che l'ultimo esercito vediamo se questo qui continua a a raidare le sue basi ah no qui le perdo tutte qui le perdo tutte veramente facilmente infatti tiro via il poco che si può salvare e rimangono proprio le idraliske allora qui inizio a truppare idraliske come se non ci fosse un domani e qua praticamente diciamo che mi porto a casa il game in questo fight perché perché so che lui mi ha intanto sposto tutte quante le di droni sapendo che andiamo a uno sapendo che lui mi sta distruggendo quella base appunto qui splitto l'esercito ne mando uno sotto la scalinata uno sopra attacco congiunto e lui a questo punto può veramente poco perché i carri con le idra me li mangio infatti qui infatti qui lui rimane praticamente con 3 Thor buttati in base 4 Elbit e un carro mentre io ho 44 idraliske che sono un bel po' fanno un bel po' male in più continuo perché comunque i minerali non mi sono mai mancati a truppare a gogo qui gli entra praticamente in base ordino a dell'idraliske di far fuori singolarmente tutti quanti questi maledettissimi scv che riparano e qua praticamente come vado a distruggere la base lui si arrende mi lascia la partita avendo come possiamo vedere dalla mappa scoperta finito tutti quanti spero di non stare a parlare troppo vicino al microfono finito tutti quante i minerali che stavano nelle sue basi centrali quindi qui lui non poteva prendere più niente e ovviamente i Thor hanno un costo esorbitante quindi avendo finito completamente come vediamo i minerali ha deciso di arrendersi è una partita lunga e tormentata ma alla fine ce l'ho fatta è stata veramente divertente questi video che sto facendo di Starcraft per lo più li sto facendo anche per conservarmi a me stesso per me stesso i replay più belli e divertenti per potermi anche un giorno rivedere o quando ne ho voglia spero vi sia piaciuto anche a voi andiamo a vedere un attimino lo sto intanto il gatto che mi ha guarda e affricheggia sono le come potete vedere qui dell'orario se lo vedete sì le 3 10 di notte quindi non posso neanche tanto urlare e parlare forte e strillare e affricheggiare mentre il gatto non se ne frega nulla e nello storico partite si è questa anche 146 pm che diciamo è un mezzo record per una partita di mezz'ora e qui possiamo vedere anche l'andamento dell'estrazione questo è stato il ride lui era bello alto quando è stato il ride con i pipistrellacci gli ho fatto scendere un bel po' insomma per questo video direi che è tutto se vi è piaciuto questo replay lasciate un bel like al video iscrivetevi al canale se non vi siete ancora iscritti iscrivetevi iscrivetevi e soprattutto lasciate un commento fatemi sapere che ne pensate se siete giocatori esperti di starcraft datemi magari un consiglio una dritta su quello che potevo o non potevo fare in questa partita e non penso di dover aggiungere altro quindi ci si becca ragazzi in un prossimo video grazie